ciao a tutti oggi siamo qui per aprire una loro surprise fanzipette con le mie lol ok io ho aperto già in realtà ho aperto questo gancino e adesso lo mettiamo insieme aspettate ragazzi ed eccolo qua adesso però abbiamo trovato occhiali e cos'è questo? il mangiare cos'è? chi è questo? poi abbiamo il viperon il viperon comunque non era il nostro obiettivo poi ci sta che ci sta? che ci sta qua? ci sta la sua paletta cos'è? ragazzi c'è uscita la paletta rotta c'è uscita la paletta rotta c'è uscita la paletta rotta poi adesso scopriamo il pet ragazzi come si debbia lavare ma cosa il pet si lava? è troppo bello? adesso ci armiamo di acqua e lo laviamo bene bene penso che lui sputi il pelo non si toglie raga il pelo si sta togliendo immagino lo lasceremo peloso per questo video si sta togliendo il pelo dai non si sta togliendo o no? si si sta togliendo ok l'acqua si sta togliendo tutta viola e il nostro pet sta diventando sempre più scoperto solo che il fatto quindi la paletta rotta noi ci è dispiaciuto moltissimo e ovviamente senza scarpe lo buttiamo perché a noi pet senza scarpe non piacciono vogliamo quelli con le scarpe perché siamo negati a trovare quelli con le scarpe? comunque il pelo si sta togliendo comunque il pelo si sta togliendo subito ragazzi scusate per il tono del gatto però ok abbiamo il nostro petto e lo buttiamo via perché e lo buttiamo via perché non è con le scarpe non ci piace forse pilar querrà ad altre persone ma adesso scusate ragazzi sempre però adesso vediamo la sua abilità due sputa però immagino che cambi colore e lo proveremo dopo a parte adesso togliamogli il pelo perché è maschietto noi i petto li facciamo essere maschietti ciao Tom oh ma ci sta la sabbietta ancora da grazie a tutti